Meggi oggi di Europa League, Milan, Barcellona, un classico, avevate la partita in pugno e avete perso nel finale, cosa è successo? Cosa è successo? Abbiamo la partita in mano, a quanto pare abbiamo abbassato troppo la guardia, abbiamo iniziato davvero davvero bene, partita perfetta fino a metà del secondo tempo. Poi ad un certo punto eravamo in troppi oggi, volevamo giocare tutti, abbiamo tirato fuori il miglior giocatore, il nostro difensore, 4 gol di fila, peccato, il nostro portiere ha giocato davvero davvero bene, 6 a 5 negli ultimi 30 secondi per noi, ultimo secondo il nostro portiere ha fatto una cazzata. In quattro uomini abbiamo resistito, vuol dire dopo l'espulsione abbiamo resistito e vorrei che qua il nostro Rosti, la nostra punta, speak English? No. Abbiamo visto comunque che nel secondo tempo si sono riempiti gli spalti, può essere che l'emozione vi abbia tradito? Il Barcellona è una partita da pubblico, è sempre stata una partita da pubblico e lo sarà sempre. È un casino. È davvero, peccato. Futa il diavolo! Siamo comunque primi, siamo comunque primi. Esatto, rimanete comunque primi in classifica? Siamo sempre primi in classifica e nessuno ci supera. Stiamo ancora cercando uno sponsor, noi cerchiamo sempre uno sponsor. Johnny, Johnny, in bocca al lupo, in bocca al lupo, allora avanti così e immagino che puntiate al titolo. Questa è la squadra del Milan, noi siamo già in finale. Voglio dire una cosa, questa è la nostra squadra, così arriviamo in finale, così arriviamo in Champions e così noi vinciamo e così noi arriveremo dappertutto. Ciao, ciao.